Ciò che avviene nella nostra bocca può avere ripercussioni sull'intero organismo? La risposta è sicuramente sì. Una teoria più volte confermata da medici e specialisti in virtù delle tante correlazioni che esistono tra malattie sistemiche e capita orale. Di questo si è parlato ieri sera nel corso di un convegno ospitato a Trani presso la sala conferenza della Croce Bianca tra le associazioni più attive sul territorio nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e per quanto riguarda la prevenzione e la formazione. La Croce Bianca è un'associazione storica di Trani che nasce nel 1922 quindi potrebbe sembrare giovane perché è stata ristrutturata di recente e ha ripreso la sua attività tipica, quella socio-sanitaria quello di fare informazione, quindi incontri con i quali intende dare delle indicazioni preventive a tutto quello che può essere uno stato di salute precario. Ecco, in questo caso abbiamo l'opportunità di tenere presente qual è l'attività preventiva nel curarsi la bocca. Tema centrale dell'incontro, il nesso che spesso lega i disturbi della cavità orale vale a dire infiammazioni o patologie paradontali e malattie sistemiche, diabete, sindromi metaboliche o anche disturbi dell'alimentazione. Vogliamo educare la gente a beneficiare del proprio rapporto salutare cominciando dalla bocca. Se pensiamo a un diabetico, il diabetico sicuramente in bocca ha dei risvolti paradontali se pensiamo a un cardiopatico, in bocca abbiamo dei risvolti gengivali quindi aumento di volume e quant'altro. Dobbiamo sempre considerare che l'unico elemento che può indurre nel corpo delle malattie è l'accesso dalla bocca per cui la bocca è la badiera del sistema endocrinologo di ogni persona. Il concetto è che il corpo funziona come una macchina perfetta un sistema di componenti caratterizzati da un'intensa correlazione tra processi biologici. Le alterazioni di una qualsiasi delle sue parti possono avere un grave impatto su altre aree un processo che avviene anche molto di frequente. Una manifestazione orale è molto frequente e infatti è molto importante che sia il paziente ma soprattutto il medico guardi in bocca perché possiamo vedere dalla bocca situazioni come malattie infettive ma situazioni disimmunitarie, sindromi particolari soprattutto nei bambini e ci sono anche problemi legati a carenze di vitamine, disturbi dell'alimentazione che sono riscontrabili in bocca. E l'arma per combattere questo genere di complicazioni è ancora una volta la prevenzione. La prevenzione è molto importante e per questo si consiglia sempre ai pazienti di recarsi in studio per le varie visite di controllo e ai dottori di spendere 5 minuti per salvare una vita perché siccome possiamo anche trovare tumori ma diciamo anche cose un po' più grosse quei 5 minuti potrebbero aiutare una diagnosi precoce.